Io vi confesso che faccio parte di quella minoranza di italiani che non l'ha visto il Festival di Sanremo, non ho visto nulla, però ho guardato il filmato del monologo pronunciato da Pierfrancesco Favino nell'ultima serata, sono un po' impreparato, però l'ho visto e di una forza impressionante, è un monologo di un drammaturgo francese morto giovane che si chiama Coltesse, è un monologo di uno straniero, è del 77, quindi fra l'altro neanche qui in Italia nemmeno si conosceva bene il problema dell'immigrazione, però questo monologo rappresenta in maniera straordinaria la sofferenza, la rabbia, l'angoscia, la difficoltà di vivere, però anche la speranza dello straniero che si sente straniero, che viene cacciato, che viene continuamente cacciato a calci nel culo e che ritorna e che vuole un posto, che vuole un prato, devo dire che mi ha colpito la recitazione di Favino, una recitazione straordinaria, commossa, commossa e che commuove, credo che abbia commosso milioni di persone, lui si è commosso, ha finito piangendo la recitazione e penso che abbia dato un messaggio ad alcuni milioni, alcune decine di milioni di persone, un messaggio che nessun altro riesce a dare, mi ha colpito il suo intervento nel luogo più banale, più nazionalpopolare, più quello che vi pare a voi del mondo, com'è il Festival di San Remo che io per snobismo non vedo, l'ho visto l'ultima volta nel 1971 quando Lucio Dalla arrivò terzo con 4 marzo 1943, non c'entra niente. Favino riesce a parlare e a dirci che esiste il problema dello straniero, che io potrei essere straniero, che tu potresti essere straniero, che tutti siamo stranieri in questa terra e che cacciar via lo straniero è la cosa peggiore che si possa fare, ho avuto l'impressione che si è riuscita a fare quello che non sono riusciti a fare i partiti politici, non sono riusciti a fare le associazioni caritatevoli, non sono riusciti a fare i gruppi contro il razzismo, contro la xenofobia, è vero che in questo paese cresce, cresce in maniera esponenziale negli ultimi anni il sentimento xenofobo e anche il sentimento razzista, un forte sentimento reazionario che parte dalla negazione dei diritti e dalla voglia dei privilegi, parte dalla negazione dell'esistenza dell'umanità, dalla negazione del diritto ad essere stranieri, è vero che cresce questo sentimento, è anche vero che noi non riusciamo a trovare le parole per opporci, riusciamo solo a creare talvolta delle polemie che sono dettate da sentimenti magari giusti, dalla rabbia, dalla voglia, però non riusciamo a parlare, il problema è riuscire a parlare a milioni di xenofobi, ho avuto l'impressione che Pierfrancesco Favino l'altra notte ha parlato a milioni di xenofobi e gli ha messo un dubbio, gli ha messo un grande dubbio, gli ha messo il dubbio non tanto che non bisogna opporsi agli stranieri, ma il dubbio di essere stranieri.